bravo bravo uno uno fa chi mi presta la cittura? ecco la cittura eh capustarlo eh hai da te che funziona ciao 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 io puoi capito Metti le mani così, io metto il prima tira e fai pure tutto. Capito? Capito? Metti le mani così e fuori dal mezzo. No, papà fa il video. Aspetta, facciamo questa cintura. Ma sta? Adesso? Chiedi a papà, vedi? Vedi qua la cintura? La mano di papà, fallo così. Chiedi da tirare un palmo così dalla cintura e tagliare. Va bene? Si, questo va bene. Aspetta, perché. Questo è Bruno, il maestro è l'ultimo. Il maestro è l'ultimo, però sì. Vai, vieni chi? Basta, dai! Vai, 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 vai! Mi facciamo pianto! Giusto, eh? Vai! Vai, bravo! Ritorno, ritorno, forza! Una foto con tutti, dalla mano a tutti e facciamo una foto tutti insieme, dai!